Ciao a tutti e ben ritrovati qua su questo canale. Oggi lasciamo da parte la finanza personale e gli investimenti per parlare di mondo del lavoro e nello specifico della mia esperienza personale in private equity. Faremo quindi un giochino insieme. Ho utilizzato questo contenitore e al suo interno sono andato a inserire 10 bigliettini ciascuno riguardanti 10 argomenti differenti del mio lavoro quotidiano. Proverò quindi ad argomentare le differenti tematiche cercando di rispondere alla domanda prima di iniziare a lavorare in private equity mi aspettavo determinate cose che poi ho trovato oppure le attese non sono state rispettate. Adesso però è tempo di mischiare e nel frattempo spazio alla sigla. Prima di iniziare con la pesca del private equity mi presento brevemente se ancora non mi conosci. Io sono Juri e su questo canale mi piace condividere le mie passioni per la finanza personale, per il mondo degli investimenti e qualche volta parliamo anche di esperienze lavorative. Mi sono laureato alla Bocconi, ho lavorato per 3 anni in investment banking a Meneia e adesso lavora in un private equity. Se sei interessato a tutti questi argomenti ti invito fin da subito a iscriverti al canale così non perderai i prossimi nuovi video quando usciranno. È il momento però di pescare il primo bigliettino. Vediamo un po' che cosa viene fuori. Fase 2 Quando lavori in investment banking a Meneia ti concentri in particolar modo sulle attività di sales side e soprattutto sull'irrigination e la fase 1 del processo. Non avevo avuto molto l'opportunità di vedere tante fasi 2 perché o molti processi comunque non vanno avanti o è molto difficile anche arrivare alle fasi finali. E queste attività vengono anche supervisionate da colleghi più senior. In private equity invece di fatto lavorando by side come noi inizi subito dalla fase 2. E quindi è vero che comunque tutti gli aspetti legal, tax, di contratti vengono sempre principalmente seguiti da una persona senior ma in ogni caso li vedi molto di più. Quindi è una cosa che mi aspettavo ed effettivamente l'ho trovata. Secondo bigliettino Scadenze ed organizzazione Quando tu lavori in private equity sai che hai delle forti scadenze da rispettare invio delle offerte, non binding, binding o predisposizione della documentazione per il CDA. Quindi quello che mi aspettavo è che sapessi a priori e potessi organizzare meglio la mia vita nel senso che sapevo quando avrei dovuto lavorare molto e quando invece avrei potuto beneficiare di periodi un po' più tranquilli. A differenza invece di quello che succede in investment banking M&A dove il ritmo di lavoro è più o meno costante e tendi sempre a passare da un progetto all'altro e quindi non hai mai degli alti e bassi a differenza nostra. Questo è quello che mi aspettavo prima di iniziare ma nella realtà poi non si è verificato in quanto abbiamo tantissimi progetti, tantissime scadenze e spesso sorgono delle esigenze, delle urgenze che non ti permettono alla fine di organizzare al meglio i weekend della tua vita. Quindi possiamo rispondere per questo secondo argomento che non me l'aspettavo. Organizzazione interna Quando lavori in investment banking gemenese sei comunque abituato a lavorare in team estremamente strutturati che partano dall'inter, analyst, associate, vp, director fino ad arrivare a managing director o partner. Quindi sei abituato a lavorare in strutture molto verticali. Nonostante il team in cui lavoro sapevo a priori che comunque era un team piccolo mi aspettavo che ci fosse questa sorta di gerarchia ma la verità è che non si è verificata nel bene o nel male. Quindi il team è molto orizzontale di fatto le persone operative sono due una persona più junior come sono io che si occupa praticamente di tutte le attività del modello della due diligence una persona più senior che si occupa degli argomenti di cui parlavamo prima della fase 2 ovvero gli aspetti legali, fiscali, contratti e le persone più senior quindi quelli che sarebbero in investment banking m&a, partner, managing director finiscono alla fine per seguire tutti i progetti. Questo va dei lati sia positivi ma anche dei lati negativi. Prima di tutto che non si lavora in team strutturati non ci sono tantissimi livelli ma allo stesso tempo sotto di me di fatto non c'è nessuno non ho la possibilità comunque di gestire al meglio un team e di avere risorse che mi possono comunque aiutare nel mio day to day quotidiano. Quindi anche in questo caso ahimè non me l'aspettavo effettivamente. Quarto, supervisione processo anche qua la risposta ahimè è negativa. Quando tu lavori in investment banking m&a di fatto tu sei la sorta di leader di tutto il processo e sotto di te ci sono tutti gli advisor che devi gestire. Quando però svolgi questa attività per un private equity il private equity è sopra di te e quindi lui diventa il leader di tutto il processo. Un m&a advisor quindi viene preso oltre per essere di supporto nella fase valutativa soprattutto per la gestione delle innumerevoli attività che ci sono da fare durante tutte le differenti fasi del processo. Passare a private equity quindi è un'ottima cosa perché tu hai la possibilità di delegare all'em&a advisor tantissime attività e di concentrarti su quella ad altissimo valore aggiunto. Il problema è che noi non prendiamo m&a advisor per i nostri processi facciamo tutto in house quindi io di fatto faccio un lavoro che è sia metà tra il private equity e l'investment banking m&a e quindi questa supervisione dall'alto di tutti gli advisor non si è verificata. Quindi anche in questo caso non me l'aspettavo perché pensavo che ci fosse un maggiore aiuto da parte di consulenti esterni. Mischiamo questi bigliettini che adesso si stanno tutti unendo tra di loro Quinto argomento origination e marketing In investment banking m&a si tende a fare come avevo spiegato anche in un video tantissime attività di origination, creazione di un processo e poi successivo marketing. Questa fase dopo un po' diventa anche ripetitiva e molto pesante soprattutto lo era diventato per me nel 2020 quando quell'anno a causa del coronavirus tutti i processi di m&a si erano bloccati. Passando a private equity non mi aspettavo di fare assolutamente alcun tipo di attività di origination e marketing proprio perché queste attività vengono svolte dagli advisor che devono creare un processo effettivamente è stato così e quindi questa è stata un'ottima cosa perché non ho fatto mai in due anni nessun tipo di attività di origination di un processo, nessun tipo di attività di marketing, di ricerca, di benchmarking di analisi di mercato o niente di tutto questo Finisco quindi per lavorare su veri e propri processi, su due diligence altrimenti avremmo dei periodi un po' più scarichi che non verrebbero comunque colmati da questo tipo di attività che sono solite del mondo della consulenza quindi è stato un ottimo passo in avanti e in questo caso possiamo dire che me l'aspettavo Post monitoraggio In un video specifico M&A vs private equity vi avevo spiegato un po' le differenze tra i due mondi Quando tu lavori in investment banking M&A sei solito ad assistere il tuo cliento, il private equity in quello specifico processo una volta finito non sai più nulla di come andrà a posteriori quella determinata società In un private equity invece una volta acquistato una determinata target chiaramente nel corso del tempo devi monitorare le performance e quindi devi sapere quanto cambia rispetto al business plan iniziale il tuo ritorno sull'investimento Mi aspettavo che quindi oltre alla fase di M&A ci fosse comunque una fase di monitoraggio e a stretto contatto con la direzione, amministrazione, finanza e controllo delle società acquistate Effettivamente questo si è verificato e adesso sono anche responsabile di quello che è il primo fondo lanciato dal nostro private equity che unisce tutte le società che sono state acquistate nel corso degli anni Devo quindi coordinarmi in maniera semestrale con le persone che seguono il controllo e il monitoraggio di queste società per capire come cambiano i ritorni del nostro fondo quindi sono io in charge dell'aggiornamento di tutto il modello quindi in questo caso possiamo dire sì, me l'aspettavo ne rimangono solo 4 peschiamo orari so che questo è l'argomento che più volte mi viene richiesto tutti noi sappiamo di quelli che sono i ritmi duri, complicati lato investimento in banking e in money e si pensa quindi che passando a private equity tutto questo possa migliorare di gran lunga migliorare la verità è che però non è così anche in private equity come vi avevo comunque accennato in dei video precedenti la mode di lavoro, l'impegno è comunque notevole perché sei comunque circondato da persone che vengono da quel determinato background che sono abituati a lavorare in determinato modo e comunque non fai altro che relazionarti con quelli che sono advisor magari di controparte di M&A tutto sommato anch'io a priori mi aspettavo secondo come tutti sentono un orario e delle flessibilità migliori rispetto a quelle che ho incontrato e vi ho testimoniato anche i recenti picchi di lavoro in alcuni video su tutti quello ormai più conosciuto che avrete visto tutti qua sul canale è quello finanza tossica quindi la risposta agli orari è non me l'aspettavo e ricordatevi che private equity ahimè non è quel eldorado che tutti pensano sono richiesti comunque degli sforzi qualche volta anche nelle giornate festive così come nei weekend è proprio oggi che sto registrando questo video è sabato pomeriggio ma fino a poco fa ho lavorato di fatto tutta la giornata rimangono tre bigliettini skills senior quello che mi aspettavo passando in private equity è che le persone avessero delle competenze tecniche più elevate rispetto a quello a cui ero abituato in investment banking M&A questo perché le persone senior sono responsabili di quelli che sono i fondi raccolti dai vari investitori e dell'utilizzo di quel capitale quindi devono essere persone che devono conoscere veramente il mercato che devono conoscere il settore ma soprattutto che devono anche avere delle forti competenze di valutazione aziendale perché devono comunque comprendere i rischi sui ritorni dei loro investimenti al contrario prima in investment banking M&A vi erano comunque dei senior che avevano altre competenze come quello dell'origination della gestione di un processo della gestione degli accordi tra le parti il vero banker quindi deve avere delle soft skills deve essere in grado di creare un qualcosa anche quando questo processo in realtà non esiste sulla carta e quindi deve avere delle abilità che esulano un po' dagli aspetti tecnici quindi mi aspettavo di trovare dei colleghi senior molto preparati e la risposta in questo caso è sì, me l'aspettavo e le attese sono state confermate ultimi due bigliettini stipendio e crescita per quanto riguarda lo stipendio ero pienamente consapevole che passando ai private equity questo potesse non essere più in linea con lo standard investment banking M&A e sapevo anche che nel corso del tempo il divario tra me e i miei amici che continuano alcuni di loro a lavorare in investment banking M&A sarebbe piano piano aumentato ma in ogni caso ero comunque fiducioso pensando che l'aumento di stipendio fosse seppur in maniera inferiore ma comunque in linea a quelli che sono lo standard di investment banking M&A per quanto riguarda invece la crescita ti ero abituato che ogni anno tu aumenti di livello analyst 1, analyst 2, analyst 3 associate 1, associate 2 e così via e ogni anno quando di fatto lavori in team strutturati come parlavamo prima tu finisci per compiere delle attività diverse e quindi percepisci dentro di te un cambiamento, una scala una progressione che piano piano segui nel corso del tempo entrambe le cose purtroppo non si sono verificate per quanto riguarda lo stipendio dopo due anni posso dire dopo due giri di rialzo dello stipendio che l'incremento è piuttosto contenuto e non quanto ahimè ero abituato la distanza poi con investment banking M&A è ulteriormente aumentata ad ad alle ultime vicende successe di cui avevo parlato anche sul canale riguardante il video delle 100 ore a settimana degli analisti di Goldman le banche d'affari hanno dovuto tutte, non solo a Londra ma anche nelle altre principali capitali europee aumentare gli stipendi dati anche dalla pandemia e dal fatto che sempre meno persone vogliono comunque sottostare a questi ritmi di lavoro per quanto riguarda la crescita invece come vi dicevo prima trovandomi in una struttura comunque orizzontale il fatto che tu sia un analyst 3 oppure un associate 1 di fatto non cambia nulla nei tuoi task quotidiani al contrario invece di quanto sarebbe successo prima perché anche solo un anno di differenza poteva comportare comunque attività e ruoli totalmente diversi quindi anche la crescita professionale sotto questo punto di vista è molto limitata e talvolta nemmeno si percepisce quindi passano gli anni aumenti di ruolo ma lavorando sempre di fatto in due nel team fino a che tu non ti occupi della vera fase 2 quindi tutti quegli aspetti legali contrattuali e fiscali di cui parlavamo prima probabilmente non percepisci o non percepirai mai questo scalino e questo miglioramento dentro di te quindi la risposta finale a stipendio e crescita è che quello che si è verificato onestamente a priori io non me l'aspettavo e infine l'ultimo bigliettino è quello che riguarda il debito quando lavori in investment banking in M&A infatti ti occupi spesso di operazioni sell side by side senza dare troppa rilevanza a tutte quelle che sono le tematiche in merito alla leva finanziaria non avevo avuto l'opportunità di lavorare nel corso degli anni in project finance leverage finance debit advisory restructuring quindi dentro di me non avevo neppure migliorato le mie competenze in merito al debito quando ero in GCA Altium e si era sparsa la voce che volevano prendere un senior che creasse una sottoattività di debit advisory io mi ero comunque proposto per fare sia M&A che la parte di debit advisory perché proprio volevo consolidare queste mie competenze perché sapevo che a livello di investimenti la leva finanziaria è uno degli aspetti più importanti purtroppo questo non si era verificato e quindi ho deciso di passare anche a private equity perché quello è il lavoro che ti permette proprio di conciliare sia l'M&A che il debito e quindi ero confident dentro di me di poter approfondire tutti questi aspetti effettivamente questo si è verificato ogni giorno lavoriamo sul debito e sulla massimizzazione dei ritorni proprio grazie ai benefici della leva finanziaria e quindi su questo aspetto mi sento molto migliorato e posso dire che sì in questo caso me l'aspettavo ed effettivamente le attese sono state confermate bene è finito qua questi sono tutti i bigliettini delle tematiche che abbiamo affrontato spero che questo video vi sia piaciuto se avete dei dubbi delle curiosità io vi aspetto qua nei commenti e sarò ben felice di rispondere a tutti voi io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo sempre qua sul canale per parlare di finanze e investimenti nel mondo del lavoro ciao grazie a tutti i bigliettini a tutti i bigliettini ciao Grazie a tutti.